Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa seconda lezione sulla filosofia di Thomas Hobbes e parleremo del materialismo meccanicistico, che può essere riassunto con una frase molto semplice, e cioè per Hobbes, tutto è corpo e movimento. Bene, per chiarire in che cosa consiste il materialismo meccanicistico di Hobbes, occorre domandarsi che cosa possiamo conoscere, cosa può essere cioè oggetto di scienza. Ora, noi sappiamo che sia che procediamo con la conoscenza certa, dimostrazione a priori, sia che procediamo con la conoscenza incerta, probabile, dell'induzione, della dimostrazione a posteriori, noi conosciamo attraverso le cause, shire per causas. Ebbene, solo ciò che viene generato ha quindi una causa ed è quindi conoscibile. Noi possiamo conoscere solo ciò che è generato. Ora, gli oggetti ingenerati, che però praticamente non esistono, come Dio e gli angeli, che secondo la tradizione sono considerati appunto entità spirituali ingenerate, come tali non sarebbero conoscibili dalla nostra ragione, non possono essere conosciuti. Perché? Perché non hanno una causa. Ebbene, si arriva così alla seguente equivalenza. Solo gli oggetti generabili sono conoscibili, ma sono generabili solo gli oggetti corporei. E quindi il dominio, la dimensione del generabile è conoscibile, coincide con il dominio e la dimensione del corporeo. I soli oggetti possibili per la nostra ragione, i soli oggetti che sono oggetti di scienza, sono i corpi. Il materialismo di Hobbes, come quello degli stoici, se andiamo a vedere nella tradizione passata, è radicale. Tutto è corpo. Tutto ciò che esiste è corpo, tutto ciò che è corpo esiste. Anche Dio deve essere corpo. Nella sua polemica con il vescovo Bramhall si discuteva appunto non tanto dell'esistenza di Dio, ma della natura di Dio. Il vescovo affermava la tradizionale concezione, secondo Dio è spirituale, come un'entità spirituale. Hobbes ribadisce e replica, sostenendo che al massimo attribuirà di la spiritualità, è un titolo onorifico per così dire, ma non può essere certo inteso in senso letterale, perché se affermassimo che Dio è spirituale, è come se dicessimo, insomma, dice Hobbes, che Dio non esiste. Quindi, non solo tutto è corpo, ma i corpi sono movimento, ovvero i corpi agiscono attraverso il movimento. L'oggetto e la sensazione che l'oggetto produce nei nostri organi di senso sono movimenti. Le qualità stesse sensibili dell'oggetto sono movimenti e i nostri organi di senso funzionano attraverso il movimento. Quindi, corpi e movimento danno tutto ciò che esiste. La nostra stessa anima, secondo Hobbes, è spiegabile e le sue operazioni, anche le operazioni che oggetto di fremo cognitive, come la ragione, il pensiero, insomma, altro non sono che corpo e movimento. E qui si colloca la critica al principio cartesiano, la massima del cogito ergo sum. Il fatto che io sono una sostanza che pensa sia un'evidenza, è anche secondo Hobbes indiscutibile, ma dal fatto che io esisto non discende che io sia pensiero, come scorrettamente secondo Hobbes aveva desunto Cartesio. Io sono una sostanza pensante non è una deduzione lecita che si può compiere a partire da io sono una sostanza che pensa. Perché? Perché è vero che io penso e quindi esisto. Ma la cosa che pensa potrebbe benissimo essere non una sostanza pensante, che io chiamo il pensiero, il res cogitas, ma semplicemente il corpo, la materia. Naturalmente una materia considerata non come inanimata, ma appunto animata, dove animata significa dotata di movimento, però non dotata di una sorta di anima che la fa muovere, intesa come entità spirituale. Quindi quando io parlo di anima umana, in realtà sto parlando del movimento. Gli stessi atti dell'anima sono movimenti prodotti da corpi esterni o movimenti all'interno del corpo umano. Ora, tutto ciò che esiste, abbiamo detto, è corpo, è il movimento, il principio, che mi permette di spiegare il funzionamento dei corpi. Inoltre, dato che il movimento agisce attraverso la relazione di causa e di effetto, possiamo dire che la visione di Hobbes è una combinazione di materialismo, determinismo e meccanicismo. Un immenso meccanismo corporeo dotato di movimento e che funziona secondo il principio di causalità. Bene, a partire da qui abbiamo anche le partizioni della filosofia, e cioè della conoscenza. La filosofia studia gli attributi dei corpi, cioè la causa, l'effetto, le determinazioni spazio-temporali, l'identità, eccetera. E dato che i corpi si distinguono in naturali e artificiali, avremo due fondamentali, avremo una fondamentale divisione della filosofia, come riassunto in questo schema, in filosofia naturale, che studia i corpi naturali, come possono essere i fenomeni naturali, gli eventi naturali, i pianeti, i metalli, eccetera. E' una filosofia civile che studia invece quelli che potremmo definire i corpi artificiali, che si suddivide in etica e in politica. L'etica, che studierà le emozioni, i bisogni umani, il comportamento dell'uomo, e la politica che invece tratta della convivenza umana, della comunità umana, e quindi della legislazione sociale e dei doveri civili. Se prendiamo in considerazione l'etica, ebbene, anche in ambito etico, abbiamo la sistematica applicazione del materialismo. Obso parte dalla constatazione che i valori morali, intesi come valori assoluti, quindi universali, semplicemente non esistono. O meglio, se noi cerchiamo un fondamento ontologico, l'assolutezza dei valori, cerchiamo quindi di fondare il valere dei valori, la loro universalità, il fatto che siano uguali per tutti, e quindi la loro assolutezza, sulla stessa natura delle cose, ci troviamo di fronte a un impasse, perché ci rendiamo conto che tutte le valutazioni sono soggettive. Cambiano da individuo a individuo, ma se prendiamo in considerazione lo stesso individuo, in situazioni diverse, cambiano anche per lo stesso individuo. Quindi i valori assoluti semplicemente non esistono. Ne esiste un criterio che mi permetta di distinguere in assoluto tra il bene e il male, una volta per tutte. Ricordiamoci che qui stiamo affrontando una questione che era molto cara anche a Cartesio. Cartesio cercava il suo metodo proprio perché, non contento del sapere tradizionale che gli impediva, sosteneva Cartesio, di distinguere tra vero e falso in campo gnosiologico, nell'ambito della conoscenza, e tra bene e male, giusto e ingiusto, nell'ambito dei valori e quindi del comportamento. Ebbene, anche Hobbes parte da queste considerazioni o cerca una risposta a queste domande. Ma mentre Cartesio la trova nel suo razionalismo e nel suo innatismo, che gli permettono un fondamento assoluto e oggettivo della conoscenza razionale, Hobbes, per quanto riguarda il vero e il falso, e quindi la conoscenza, ha una prospettiva materialista di una ragione strumentale fondata su un linguaggio che è convenzionale. E per quanto riguarda, invece, il materialismo etico, muove da una considerazione relativistica, in fondo. Noi non possiamo fondare, cioè, la distinzione tra bene e male sulla natura delle cose, ma dipende dagli individui. E però non possiamo nemmeno fondarla sul giudizio degli individui, che è relativo, che è discorde, ma avremmo una possibilità di distinguere tra bene e male solo in quei casi in cui esiste un'autorità. Autorità riconosciuta che, con le sue deliberazioni, distingue tra ciò che è giusto e tra ciò che è sbagliato. Per esempio, una legge implica una distinzione tra bene e male dal punto di vista di una autorità che ha emanato quella legge. E quindi solo nello Stato esiste la possibilità di distinguere tra bene e male. normalmente e soggettivamente si chiama bene ciò che si desidera e si desidera ciò che produce piacere. E produce piacere ciò che, dice Hobbes, nella sua ottica materialistica, rafforza il movimento e quindi la vita. E viceversa si chiama male ciò che si odia perché produce dispiacere, perché rallenta, ostacola il movimento dell'esistenza, della vita. Bene, se noi andiamo a vedere il processo attraverso cui si esercita la scelta umana, notiamo che a una condizione di deliberazione, che è quella che precede la decisione, si caratterizza uno Stato di sentimenti alterni, discordanti, in cui l'individuo non ha la chiara consapevolezza di quale tra le alternative che si pongono egli possa scegliere. La volontà è semplicemente un atto in cui si decide di passare all'azione o di non passare all'azione. Opera la decisione finale. E tuttavia lo Stato di incertezza della deliberazione, così come lo Stato di volontà che opera finalmente la decisione, non determinano il superamento assoluto dell'incertezza. Perché? Perché l'uomo continua a sentire, l'uomo continua a desiderare. L'azione non può mai essere una definitiva soddisfazione del desiderio, ma è solo una togliere temporaneamente lo Stato di incertezza. Dato che non esiste un sommo bene o fine ultimo, non esiste neanche, finché l'uomo è in vita, una cessazione del movimento, del desiderio e della deliberazione e della volontà e così via da capo. Infatti il sommo bene è quel bene possedendo il quale non si desidera nient'altro. Ma desiderare in qualche modo connaturato all'uomo potremmo dire che l'uomo si trova in una condizione simile a quella che abbiamo appena definito essere la condizione di chi possiede il sommo bene, quindi è felice, quando smette di desiderare. Ma smette di desiderare soltanto in una situazione, quando cessa di essere in vita. E quindi meglio evitare questo tipo di felicità se insomma consiste e coincide con la morte. Sempre collocandoci in campo etico, dopo aver preso in esame la deliberazione e la volontà, prendiamo in esame il libero arbitrio nella versione che ne dà Hobbes. Bene, per Hobbes semplicemente il libero arbitrio non esiste. O meglio, se per libertà noi intendiamo la capacità di scegliere tra ciò che è bene e ciò che è male, o comunque la capacità di determinare l'oggetto della nostra volontà, per esempio di scegliere noi ciò che desideriamo. Ebbene, questa libertà non esiste. La libertà però è semplicemente l'assenza di ciò che ci impedisce di agire. Se noi abbiamo sete, la possibilità di trovare dell'acqua e poterla bere, ecco, è libertà. Nel caso noi non avessimo questa possibilità per qualsivoglia motivo, non saremo liberi di bere. Ma questa appunto non è la libertà. E' libertà intesa, diciamo, come libertà d'azione, quando non ci sono impedimenti esterni che ci impediscono di soddisfare l'oggetto del nostro volere, del nostro desiderio, della nostra passione, del nostro appetito. Ma che noi abbiamo proprio quel desiderio, che noi abbiamo proprio quella passione, che noi abbiamo proprio quell'appetito, non dipende da noi, dipende da fattori esterni, fondamentalmente appunto dal corpo e dal movimento. Noi ci siamo completamente necessitati. In questo la nostra volontà è determinata. Questo determinismo della volontà è del tutto sottratto al nostro intervento, alla nostra consapevolezza, alla nostra coscienza. Quindi non abbiamo libero arbitrio, possiamo al massimo avere la libertà di realizzare quei desideri o soddisfare quelle passioni che forze a noi esterne ci portano ad avere. questo determinismo e questa negazione della libertà umana e questo determinismo sistematico in quanto appunto sull'uomo agiscono cause che si sottraggono al controllo dell'uomo fa sì che l'uomo non sia artefice del proprio destino, non sia arbitro della sua esistenza. L'uomo non controlla la sua esistenza, ma come tutti gli altri fenomeni naturali è soggetto all'azione di causa, corpo e movimento e cioè del determinismo. Bene, con questo abbiamo finito l'esposizione del materialismo di Hobbes in ambito etico, in ambito conoscitivo, in ambito naturale. Il prossimo passo sarà affrontare l'aspetto più interessante della sua concezione politica, della sua concezione filosofica che è appunto la politica, che è Leviatano, il cosiddetto assolutismo, di cui Hobbes è senz'altro uno dei più importanti teorizzatori. Arrivederci, che le cause esterne possano determinare in voi solo il bene.